E' tutto pronto per il grande fratello VIP che, vi ricordo, prenderà il via il 17 aprile 2023, lunedì. Tutti con gli occhi puntati alla televisione, l'edizione 2023 di queste isole di famosi è pronta a partire e vi ricordo che la conduzione è filiata ai Lari Blasi e il Drico Bavi sarà l'opinionista che, diciamo così, si unirà a Vlalim Luxuria e sostituirà Nicola Savino. Quindi gli iubinesi saranno Luxuria e, per l'appunto, Enrico Bavi. Vediamo un po' i concorrenti, i naufraghi, chi sono? Sono Alessandro Cecchi di Paone, il fidanzato, ossia Simone, l'ex suora, ossia Cristina Scuccia, Marco Massoni, conduttore radiofonico dello Zoo di 105, Pamela Camassa, Elena Prestes, Fiore Reggento ed, infine, ma non per questo di migliore importanza, Paolo Noise. Pensate che spunterebbe anche un nome che sarebbe quello legato a Gianmarco Restini, fratello di Luca, veterinario di reality show, soprattutto in territorio spagnolo. Quindi anche una sorta di lembranza del grande fratello VIP potrebbe esserci. Tra una grafica confermata ci saranno anche le sorelle Elga Enardu e Serena Enardu, il buon Christopher Leone, modello brasiliano, Claudia Motta, la bella modella italiana, il simpatico Gianmaria Senato ed infine il buon Marco Predorinna, che, vi ricordo, era un conduttore degli anni 80 e 90 di tanti giochi televisivi. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, cari utenti di YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, datemi la vostra opinione, ci tengo ad averlo. Un saluto caro a voi da parte mia e una buona serata a voi. Ciao.